Noi ci affidiamo ovviamente al nostro tavolo regionale, nazionale, stanno lavorando. A livello regionale noi stiamo come Fratelli d'Italia, lavoriamo sul nostro programma. Il dato positivo è che il centro-destra è compatto, così come abbiamo condotto un'opposizione compatta rispetto alla giunta Bonaccini, lo stiamo facendo nella condivisione del programma. Aspettiamo quella che sarà l'ufficializzazione del candidato, ma come abbiamo detto più volte, siamo pronti per andare a governare questa regione finalmente. In pochi giorni, entro la fine della settimana, riteniamo che ci sarà la formalizzazione del nostro candidato. Abbiamo un modello di governo diverso per la regione Emilia-Romagna, che pone al centro i cittadini, le attività produttive, la sanità è il nostro primo tema. Abbiamo preso atto dalla cronaca di giornali che anche per De Pascal la sanità è il primo tema e questo per noi è motivo di riflessione, ovvero riteniamo che se avesse fino ad oggi funzionato così bene, il candidato del centro-sinistra non lo avrebbe posto al primo punto della sua agenda e del proprio programma elettorale.